Tre giorni fa il sindaco di Pescara presentava lo stato dei conti del comune, voce per voce, cifra per cifra, lodando i risultati raggiunti, i debiti estinti e gli introiti ottenuti per le casse comunali. Forza Italia oggi replica, punto per punto, e smonta tutto l'ottimismo che aveva mostrato il primo cittadino. No, soprattutto non illustrano in maniera chiara quella che è la situazione finanziaria del comune. Io ricordo che non più tardi, nove mesi fa, Alessandrini disse alla città che la situazione era drammatica e che quindi occorreva attivare la procedura di predissesto. Dopo nove mesi dice che è tutto a posto. Quello che contestiamo è la fotografia assolutamente ottimistica che viene fatta a settembre, perché il piano di riequilibrio non è stato ancora approvato, si sono persi già due mesi per comunicare al Ministero le modifiche apportate, nonostante noi avessimo segnalato questa esigenza già a luglio. Quindi i 30 milioni del fondo di riequilibrio non sono ancora arrivati. La situazione di cassa non è migliorata. Ci sono più soldi in cassa perché i cittadini di Pescara hanno pagato più tasse e il comune li ha incassati questi soldi, ma noi abbiamo sospeso, noi intendo dire comente, l'amministrazione ha sospeso tutti i pagamenti relativi alle opere pubbliche realizzate entro il 31 dicembre 2014. Un altro dato importante poi è quello dei famigerati crediti inesigibili. Una perdita cioè per le casse comunali. E anche su questo punto Forza Italia lamenta inefficienza da parte degli amministratori cittadini. I crediti sono stati già cancellati per restituire credibilità e veridicità al bilancio comunale. Ma è altrettanto vero che adesso abbiamo dovuto accedere anche qui a un prestito che va onorato. In 28 anni dovremo rimborsare praticamente le rate del mutuo che è stato concesso per coprire i crediti che abbiamo dovuto cancellare.